E non si vede. Allora, una e due, perché siamo professionali, quindi doppia inquadratura, più o meno. Ok, così basta la... voilà, così si vede qualcosa in più, no? Beh, andiamo parlando a zingh. Voilà. Oddio, no, quella che... me la ti dico. Allora, questo. Siamo... Questo. E sì, qua due. Le istruzioni. E basta. Perfetto. Allora, queste sappiamo già tutti che non le leggerò mai. È della Razer. Sì, volevo prendere una meccanica di Logitech, ma alla fine ho optato per quella della Razer. Perché... non lo so. In quel momento ho detto, perché non la prendo? Cioè, è lì, mi guarda. Prendiamola sulla tastiera. Vado già a rimettere questi nella scatola. Eh, io sono proprio una persona bella che non sa nemmeno infilare delle istruzioni da dove la tirate fuori. In teoria è messo dentro. Ok. Allora, intanto vado a togliere qua sotto questa, che è la... come si chiama? La cosa per connettere l'altra tastiera. E sfrutto questi per coprire. Va che bella sta roba che puoi coprire con questi tastieri. Bene, poi... Allora, prendiamo prima questo, che non so cosa c'è dentro. Ah, il cavo, penso. Il cavo su... Eccolo qua. Vabbè, carta. Lo mettiamo nella scatola. Poi... Eccola qua, la tastiera. Abbiamo questo. Abbiamo l'altro. E questi qui li vado... Vabbè, li lascio qua adesso. Ah... Uuuuh, il cuscinetto! Questa roba mi piace. Tanto, la tastiera c'è. Il cuscinetto, come è? Già una gran roba. Ora devo reinserire una cosa nella scatola. Ovvero, questi, così. Per capire che si reinserisce, come sarebbe una bella scatola. Probabilmente non lo scoprirò mai. Non riesco a reinserirlo nella scatola. Ok, così. Così un c... Perfetto. No, l'ho messo al contrario, signori. Ho sbagliato pure questo. Ok. Questa, che non ci serve più. Va nella scatola, sì. Quindi posso dire addio alla mia vecchia tastiera. Cioè, non addio, però. Non lo userò più, penso. Beh, questa la infilo qua sotto. Dove ho tutte le scatole. E niente, posso dire... Addio a questa tastiera, penso. Cioè, la terrò sempre, eh. Però, intanto, classici loghi. Razer. Stavo perdendo gli adesivi. Beh, andiamo a montarla, nel senso. Allora, cavo. Così. Allora. Tanto amo questa cosa che mettono le protezioni su... Con l'inizio del... Della... Cavo. Una. Due. Allora, vorrei... Fare in modo... Che questa cosa funzionasse bene. Nel senso che facciamo così. Mettiamo tutto il cavo assieme. Così. Poi vedrete, eh. Le mie idee tazze. Nel senso, così. Penso sì. Questo non lo posso fare dopo il giro, quindi faremo... Vabbè, lo lasciamo così. Infatti, questo lo vado a inserire qua dietro. Dove c'ho questa fantastica presa. No. Ho sbagliato pure il cavo. Questo. Perfetto. E questo è inserito. Mentre... Quell'altro, che è questo. Lo lasciamo qua. Qua. La cucinetta lo sposto. Allora, dovrebbe arrivare sotto... Queste... Che sono le cosette per alzarla. Ok. Madonna, che bello il suono della meccanica. Mi farà impazzire, eh. Sì. E niente, adesso la preghiamo. Ok. Ci andiamo. Ma è su se... Ma è su se... Funziona già? Sì. Vedete il mio schermo qua? No. Che dite? Che meglio? L'inquadratura... Questa? Tu? O tu? Qual è meglio? Non lo so. Siamo mai là. Ecco, provo. Ah, ecco. E' esplosa, signori. Buonasera. Salve, Doc. Sera buona. Salve, Doc. Salve. Siamo in... Slive. No, non ti pare. Nessi o no? Oh. Sì? Sì. Siamo meglio. No. Siamo... Stavo dicendo, ragazzi. Comunque. Sai cosa? Devo ancora avviare, ma anche... E' avviato. De... De... Manca. Eh, vedi? Vedi allora? Che era tutta la fucking news. Eh, cosa? Cosa? Che cosa? Che non si era lato? Sì, che era a mandare. Stavo per dire una cosa bella. Zio, più che farti vedere così. Eh, ho guardato la Twitch. Per fortuna, perché... Ti avrei picchiato tanto. Ciao.